Allora, posizione di guida. Dove arrivi? No, 75. No, treviso. Pronti? Quando vuoi. Sono abituato che la frizione è più vicino al montante della ruota. Andiamo. La pedaliera è molto centrale. Allora, questa chiude, ha una lunga destra che chiude. Andiamo. Qui secondo, terza, perché il motore ha talmente tanta schiena che ti porta via anche una marcia in più. La macchina è super piatta, super sincera. Seconda. Però tira qualche gira in più. Stai cambiando troppo presto. Frena, che è stretto. Frena, frena, frena. Vai. Il motore ha una forza incredibile. Certo. Vai, facciamo un altro giro. Tiriamo tutta la terza. andiamo in progressione. Rimani terza, però freni. Frena. Rimani terza. Non mi ricordo quando senti che ti contenga. Forti velocità. Questa è la prima lunga che hai affrontato. Sì. Occhio che chiude, quindi chiudi il gas. Chiudi il gas. E riparti. E poi mangia proprio le lentiline. Quando tiri, fa la doppia da sola, eh. Seconda. Frena, 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 frena. Ok. Seconda. Seconda, terza. E ripartiamo. Ok, entriamo. Molto bravo, eh. Macchina pazzesca. Si è fatta a te, ma pazzesca. Sì, molto bella. Molto sincera. Sì. Perché con il gesto elettrico non sono, non ho mai trovato le macchine sincere. Ma guarda, questo è veramente il nuovo parametro. Sia come velocità, sia proprio come equilibrio generale. È bellissimo. Peccato ci sono solo due giri, ma... Eh, forse è per noi, ma oggi siete incerto. Eh, eh. Se 가 converte i passi i passi i passi i passi i passi e poi, says- Grazie per la visione